Gli studi Temporadio, ora lo diamo al Vice Sindaco di Montichiari, di nuovo con noi Basilio Ordella. Vice Sindaco bentornato. Grazie dell'invito e dell'accoglienza sempre cortese. Gli ascoltatori di Temporadio sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo solo due delle coordinate, il numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105 e poi ricordo la pagina facebook sulla quale siamo in diretta streaming e quindi sulla quale ci potete seguire e sulla quale ci potete anche scrivere appunto quella del Il Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, lei tra gli assessorati di competenza c'è quello della cultura se non mi ricordo male, no? Esattamente. Quindi istruzione, come si chiama l'assessorato di precisione? Assessorato alla cultura. Alla cultura, semplicemente. Ah, guardi, c'è un messaggio, io lo posso leggere subito, secondo me un po' che ce lo chiedo. Non ci parli del futuro del nostro ospedale, è un fuori programma questo? Direi che non è esattamente il mio settore, so solo che ci sono novità positive, nel senso che, ma ripeto, non è il mio settore, quindi riferisco non in maniera puntuale, ma puntando alla sostanza, non nei dettagli. dovrebbe essere aperto a gennaio un reparto di geriatria con l'avvenuta del primario, se non ricordo male il nome, Romanelli, che mi dicono essere un luminare del settore e per cui c'è un rilancio specifico dell'ospedale di Montichiari, proprio perché verranno occupati quegli spazi che ora sono vuoti, di due interi piani e per cui verranno ottimizzati questi spazi, non tutti ancora, però c'è un rilancio sicuramente. Ripeto, però non è il mio settore per cui non vorrei... Sì, certo, certo. Tra l'altro è un bello ospedale, ovviamente, di cui potete essere anche orgogliosi, tra l'altro. Parliamo di cultura. Vorrei fare prima un bilancio, se possibile, breve, breve. Com'è andata l'estate monteclarense? È stata ricchissima di eventi. L'estate monteclarense ha visto effettuarsi circa 90 appuntamenti, tutti di buono o altissimo livello. È stato un investimento importante dell'amministrazione comunale guidata da Mario Fraccarlo, il nostro sindaco, con lo scopo principale di fornire momenti di cultura, momenti di svago a chi non poteva permettersi la vacanza al mare, in montagna o all'estero. Per cui lo scopo di fornire un programma culturale di questo livello aveva come principale scopo questo, ovvero di dare sollievo, serenità a chi non poteva permettersi di andarsi a cercare la serenità altrove. Giusto pensarci, giustamente. Complimenti. Guardi, le ho trovato un bel messaggio che è arrivato qualche minuto fa. Dice Vicesendia Cordella, salve, sono Luca. Voglio fare complimenti per come state gestendo l'aspetto culturale. Oggi troppe cose sono date per scontate. La libertà, la parità, i diritti, il voto. Dati tanto per scontati addirittura che in alcuni casi ce li stanno togliendo gradualmente. È ora che i giovani si rendano conto che non è tutto scontato. È verissimo, non è tutto scontato. In riferimento ai giovani spero di poter magari nel prossimo incontro qui a Temporadio dare in anteprima una chicca che si rivolge proprio ai giovani. Abbiamo delle idee, abbiamo delle proposte innovative, molto importanti, proprio riferiti a questo settore. Cioè i giovani, a Montichiari in particolare, in passato, non hanno mai trovato lo spazio adeguato. Di spazio ce n'è sempre stato per tutti. Ma uno spazio specifico, in senso temporale, in senso fisico, per i giovani non c'è mai stato. Stiamo lavorando a questo preciso obiettivo. Benissimo. E le novità invece dal punto di vista culturale? C'è la grossissima novità dell'adesione del Comune di Montichiari a Garda Musei, ovvero questa struttura che ha come capofile il vittoriale degli italiani, per cui saremo in rete, abbiamo deliberato questa adesione venti giorni fa circa, per cui cominceremo a vedere i frutti di questa partecipazione ad autunno inoltrato, ma sono sicuro che avremo grosse rispondenze e novità sul fronte. Annuncio anche che da settembre inizieremo a lavorare nell'ufficio turistico, una struttura che a Montichiari non esiste e senza spendere nuove risorse, ma ottimizzando sia gli spazi, sia il personale che già lavora a Montichiari Musei, avremo questo nuovo servizio, questa nuova funzione al servizio della collettività e degli operatori Monteclarenzi in particolare. Recentissimamente sono stato a Montichiari e proprio sono passato sotto il vostro duomo, consideravo l'imponenza di una chiesa, di quello che in realtà è un paese che evidentemente è una capitale territoriale, evidentemente lo è stato in passato. La storia di questo duomo è emblematica dello spirito che ha sempre animato i Monteclarenzi in passato, tanto che quando fu costruito la fabbriceria del tempo prescrisse all'architetto di fare il più grande e sontuoso tempio del territorio. Queste sono le parole esatte e usate nell'incarico. E il duomo di Brescia, costruito dopo, lo fecero più grande proprio per non essere di meno di una chiesa, di una basilica di provincia. E lei, vice sindaco, ha accolto perfettamente l'invito che le volevo fare. Parleremo del futuro e del presente. Facciamo appunto la situazione sulla fiera, di questa diatriba Montichiari-Brescia. Però la facciamo tra due minuti. Ci fermiamo un attimino e torniamo tra un istante. Stiamo dialogando con il vice sindaco di Montichiari, Basilio Rodella e si parlava della fiera. Allora, Montichiari-Brescia, l'unica fiera al momento vivente è quella di Montichiari, però se non sbaglio, possiamo fare il punto della situazione? Non sbaglia, non c'è dubbio. Cioè, sul territorio l'unica struttura che fa fiere è Montichiari. E posso dire con orgoglio che il 2017 avrà 42 eventi all'interno della struttura. Sta crescendo in forma visibile, continua e con la razionalizzazione delle spese si stanno facendo investimenti per l'abbellimento, per la miglior fruizione delle strutture stesse e è stucchevole la questione a dietriba con Brescia. Cioè, non sono stati sufficienti 20 anni di buchi nell'acqua da parte degli imprenditori bresciani che hanno investito su Brescia. Evidentemente l'esempio e la storia non hanno insegnato nulla. Noi stiamo alla finestra, andiamo avanti come sempre siamo andati avanti. Ricordo che la struttura di Montichiari esiste da 32 anni, cioè dal 1984 e in 32 anni dalla Camera di Commercio di Brescia che detiene attualmente il 65% delle quote della struttura di Via Caprera ex Fiera di Brescia non è mai arrivato l'equivalente di un caffè. Noi chiediamo in maniera gentile ma molto molto ferma che è ora di piantarla è ora di dire basta. Noi vogliamo essere considerati come una struttura che lavora per il territorio e che ha diritto di avere i finanziamenti che una struttura del genere merita. Per cui non chiediamo altro che quello che ci è dovuto. Mi pare di essere stato sufficientemente chiaro. non facciamo proiezioni sul futuro previsioni lasciamo stare vediamo come vanno gli eventi noi a settembre ritorniamo alla carica cioè voglio dire non mogliamo l'osso noi siamo coscienti della forza e delle forze che abbiamo perché 32 anni di investimenti propri con poche eccezioni venuti da fuori ricordo comunque la lodevole iniziativa dell'attuale provincia di Brescia che è stanziata su tre anni 600 mila euro per la provincia di Brescia per il centro fiera di Montichiari che è impropriamente il centro fiera di Montichiari ma il centro fiera si chiama centro fiera del Garda è il centro fiera di Brescia della Lombardia orientale certo allora tanti altri messaggi che le sono arrivati addirittura le parlano anche del del terremoto in uno di questi messaggi un sms le chiedono se con i terremoti si può stare tranquilli insomma per quanto riguarda il castello il duomo le varie strutture di Montichiari non sono un esperto direi che non si può stare tranquilli mai con i terremoti posso solo dire che la passata amministrazione ha avviato lodevolmente un'indagine e un adeguamento sismico dei vari edifici cosa che noi stiamo continuando domani avremo una giunta dove uno degli argomenti dell'ordine del giorno sarà proprio questo questo per la questione tecnica per la questione invece di come intende Montichiari sostenere i terremotati c'è la proposta del nostro assessore al bilancio Renato Baratti di destinare una quota significativa per i nostri bilanci alle popolazioni alle popolazioni terremotate e domenica prossima 4 settembre alle ore 12 sotto i portici del comune ci sarà una spaghettata con una matriciana del costo di 10 euro cade interamente il cui ricavato sarà interamente devoluto ai terremotati quindi queste sono le iniziative più fresche più attuali quindi dal bilancio verranno tolti verranno indirizzati dei soldi a favore dei terremotati e poi c'è questa iniziativa promossa dalla Proloco che darà il via a questa raccolta fondi per cui insomma ci sono diverse iniziative a proposito di manifestazioni c'è chi scrive è più polemico dice 12 giorni in sagre feste sfilate e i ristoratori chiudono però così voi siete complici dice chi ha scritto il messaggio noi non siamo complici per niente nel senso che adesso c'è una sollecitazione della regione Lombardia che propone ai comuni cioè non propone impone ai comuni di predisporre un regolamento per per le sagre per cui ci stiamo lavorando presto sarà pronto e verrà portato in consiglio comunale ricordo anche che tutte le sagre che si svolgono a Montichiari ripeto tutte le sagre hanno fini benefici quindi le varie sagre che vengono svolte nelle frazioni o in centro il ricavato di tutto il ricavato di quanto viene raccolto è devoluto per la comunità quindi accetto a fatica questa provocazione anche se è lodevole regolamentare le sagre perché non possono essere fatte per due weekend per esempio come succede adesso per alcune o non possono essere fatte in quantità industriale come stanno venendo avanti negli ultimi tempi chi lavora in proprio e paga le tasse ha diritto ai propri spazi questo è vero ma ricordo però che le sagre non sono per ingrassare i portafogli di qualcuno ma per andare incontro ai bisogni della comunità certo allora le associo alcuni messaggi alcuni le fanno i complimenti Rodella bellissime serate agostane finalmente la città è in mostra Corrado poi ancora altri messaggi bellissime serate ah no questa l'avevo appena letta c'è un bel messaggio anche nel quale le fanno i complimenti per esempio per le varie iniziative e le dicono anche per esempio che la viabilità per esempio in Montichieri è più che buona a differenza di quanto alcuni affermano ci sono anche molti parcheggi basta affrontare la colossale distanza di qualche decina di metri che si trova dappertutto le segnalano il problema è che i viali di notte a volte diventano piste da Formula 1 questo è il messaggio che le ha mandato Roberto ma sono tutte segnalazioni di cui bisogna tenere conto noi dobbiamo tenere conto anche del fatto che abbiamo una decina decina di vigili dodici devono essere esattamente e che sono assolutamente sottodimensionati quando dico sottodimensionati uso un termine veramente non adeguato per dire quanto stanno facendo i nostri vigili per la comunità e dovrebbero essere almeno il doppio almeno il doppio perché se si considerano le giuste assenze per malattia per ferie e per sovraccarichi di lavoro bisogna tener conto che i vigili devono fare viabilità tutti i venerdì durante tutte le fiere durante tutte le manifestazioni che si svolgono al velodromo e al Palagiorge per cui veramente siamo sottodimensionati e quanto scrive l'ascoltatore Roberto dovremmo tenerne conto ma tenendo conto anche delle forze che abbiamo a disposizione per combattere il modo indiscriminato e assurdo con cui certe persone vanno in giro avete tra l'altro comunque uno dei corpi più efficienti della Lombardia abbiamo avuto il nostro comandante con tutti i suoi addetti ha avuto riconoscimenti molto significativi per il lavoro che svolge Cristian Leale appunto credo sia uno dei più efficienti in assoluto vediamo altri messaggi ancora dunque c'è anche chi propone addirittura un gemellaggio con i paesi terremotati vediamo ecco le associo altri messaggi lancio il sacchetto di spazzatura occorre ecco che le ali stanghi di brutto dice ma di brutto davvero non è firmata questa breve mail troppa sporcizia in giro questo è un sms anche che è arrivato appunto ci sono alcuni messaggi di questo di questo tenore fondamentalmente per cui anche lì ma è su per far fronte a questo a questo mal costume saranno installate delle telecamere mobili proprio per far fronte e individuare chi fa questo questo sport stupido vergognoso che deturpa proprio la bellezza di Montichiari e ne fa una cittadina a tratti sporca certo anche perché se noi prendiamo uno stanzone spaziamo lucidiamo diamo la cera e lucidiamo il pavimento di questa stanzone ma ci buttiamo una cartina di caramella l'occhio cade sulla cartina di caramella esattamente su tutto il resto che è pulito non c'è niente da fare siamo in chiusura vice sindaco vediamo di legge ah ecco guardi visto che è assessore alla cultura le leggo questo di tanti messaggi gli altri li teniamo per la prossima volta chiede un ascoltatore o ascoltatrice se in comune c'è un ufficio di consulenza per l'ascoltatore dice mia figlia si iscrive all'università e non si capisce niente di come si calcolano le tasse universitarie mi viene da sorridere perché esprimo la mia solidarietà all'ascoltatore in quanto a suo tempo l'ho dovuto compilare anch'io il calcolo e non è semplice noi abbiamo all'interno dell'ufficio comunale un settore riferito alla scuola e ai servizi sociali di primissimo ordine che è appunto di riferimento da sempre da decenni per tutto il circondario io invito l'ascoltatore a fare una cappatina in comune e troverà sicuramente adeguata risposta quindi siamo in chiusura grazie vice sindaco appunto allora quindi la risposta è positiva per chi ha mandato questo messaggio ci sono gli altri messaggi che li tengo per la prossima volta ringraziamo moltissimo il vice sindaco di Montichiari Basilio Rodella grazie per voi per l'invito grazie a tutti grazie a tutti